Verso il futuro, per un'Italia più sostenibile. Tra skyline moderni e borghi antichi, un nuovo sistema fotovoltaico per un'energia pulita. Non esiste futuro senza passato. E se ogni rivoluzione ha un cuore antico, anche quella che sta cambiando il concetto di utilizzo delle fonti energetiche si muove velocemente nel rispetto della diversità dei tanti e preziosi ecosistemi architettonici del nostro bel paese. Una sfida importante, che necessita di un approccio responsabile e consapevole da parte degli addetti ai lavori. Da una parte cogliamo la grande opportunità di una fonte rinnovabile, sostanzialmente impatto zero, di cui beneficiano sia gli edifici, che le persone, che l'ambiente. Dall'altra c'è il grosso problema, dal punto di vista del progettista, dell'integrazione del sistema fotovoltaico nel nostro ambiente. A sostenere la sensibilità del progetto, si schiera Solar Day, realtà orgogliosamente italiana che da anni si impegna nella valorizzazione dell'energia pulita attraverso una costante ricerca. Delicatamente in bilico, tra necessità di sviluppo e attenta conservazione del patrimonio esistente. Scegliere l'energia del sole è la mission di questa azienda milanese, acquisita cinque anni fa da Business Partner. Oggi, nel suo stabilimento vicino a Brescia, nascono tegole e pannelli solari, certificati e garantiti, capaci di costruire il futuro con tecnologie all'avanguardia, attraverso proposte mirate a ridurre sempre più l'impatto estetico. Amalgamandosi e integrandosi con quella insostituibile bellezza che gli antichi borghi italiani esprimono da secoli, le tregole fotovoltaiche firmate Solar Day si inseriscono armoniosamente sui tetti di quei borghi che rappresentano un patrimonio per l'umanità. Rispetto al panorama metropolitano, un punto d'attenzione dovrebbero essere i piccoli borghi italiani. In questo caso, andare a integrare le coperture in maniera sapiente e con un disegno preordinato e coerente col territorio potrebbe essere sicuramente vincente rispetto all'uso indifferenziato di queste tecnologie. E se progettisti e architetti concordano sulla necessità di questa visione green, Solar Day non smette di studiare soluzioni sempre più avveniristiche con il sostegno dell'insostituibile partner che, potente e generoso, continua a regalarci la sua fonte di vita. Grazie a tutti!